Allora, riprendiamo i comandi per istruire la tartaruga e permettergli di andare oltre questa zona numero 2. Allora, leggiamo le istruzioni. Utilizza la tartaruga per collezionare il materiale qui vicino, dopodiché prova a costruire il ponte tramite la tartaruga per poterti permettere di attraversare la piscina, ricorda di posizionare i blocchi al di sotto delle zampe della tartaruga. In effetti, come personaggio io non ho modo di andare dall'altro lato della piscina, dunque la tartaruga deve collezionare questi blocchi e poi posizionarli per arrivare dall'altro lato della piscina. Quindi io direi di connettermi, tasto 0, e abbiamo la possibilità di connetterci in questo modo. Andiamo avanti, cerchiamo di raggiungere i blocchi. Allora, innanzitutto vediamo una cosa. Sappiamo che la tartaruga per arrivare in questa zona ha distrutto 5 blocchi di pietra, che sono quelli che si ritrovano nella posizione numero 1. Allora, io direi per esempio adesso di spostarli e metterli nella posizione 5. Continuiamo a dare dei comandi alla tartaruga. Mettiamoci in questa posizione, 0, e proviamo a distruggere alcuni blocchi. Abbiamo detto, torno indietro, che questo piccone rompe soltanto i blocchi davanti a sé. In effetti adesso dice che non c'è niente da scavare. Quindi, davanti a lei, ecco, è riuscita benissimo. È riuscita benissimo. Facciamola girare, avanti, destro. Ok, perfetto. Adesso facciamola, per esempio, andare avanti. Diamogli un paio di comandi, giusto per riprendere un po' di funzionalità con la programmazione. Allora, io direi di prendere questo blocco e questo sopra, programmando la tartaruga. Abbiamo due modi. Allora, il primo è quello di dirgli di scava davanti a te, e poi avanza e poi scava sopra di te. In questo modo dovrebbe prendere questi due blocchi, questo e questo in alto. Allora, eseguiamo, scava, avanza e scava sopra di lei. Così la tartaruga non è, diciamo, dovuta salire. Allora, io posso anche dire di girare. Girare, gli possiamo far fare quest'altra cosa, per esempio. Cancelliamo questi, li diciamo. Vediamo, non mi ricordo come è posizionata la tartaruga. Quindi io li direi... Sì. Vediamo se riusciamo. Li direi di andare in alto. Scava esattamente di fronte a te, avanza e poi scava sotto di te e dopo scendi. Vediamo se siamo stati bravi. Avanza, scava e scendi. Perfetto. Quest'altro li facciamo a mano. Vediamo quanti blocchi abbiamo collezionato fino adesso. Sette, mettiamoli in posizione sette. Ok, noi andiamo in modalità manuale. Diciamo scava di fronte a te, gira a destra, avanza, scava di fronte a te, gira a sinistra, scava di fronte a te. Ok. Io direi che siamo pronti per provare a costruire il ponte. Allora, ovviamente la tartaruga non cade nella piscina. La tartaruga riesce a volare. Forse invece di una tartaruga era meglio descriverla come un uccello volante, insomma. Allora, non sappiamo, non so quanti blocchi ci siano. Possiamo contarli e fare un comando unico. Però andiamo per passi. Allora, innanzitutto togliamo queste istruzioni. Perfetto. E ci posizioniamo in questo modo. Vediamo che abbiamo nella posizione 1 tre blocchi di pietra. Poi nella posizione 5 altri 5. Nella posizione 7, sette blocchi di pietra. Allora, proviamo a posizionare i primi tre. E vediamo quello che succede. Allora, la costruzione del ponte, io direi, avanza e posiziona sotto di te il blocco. Avanza, posiziona il blocco. Avanza, posiziona il blocco sotto di te. Che poi di fatto non è nient'altro che questa indicazione che ci dava... No, infatti ho sbagliato. Ecco, per meno male che sono andato a controllare. Perché in effetti non dobbiamo utilizzare quel tipo di comando. Ok, cancelliamo tutto. Ma dobbiamo utilizzare il vai avanti invece di questo, che non riesco a togliere. Allora, avanti, ma dobbiamo utilizzare quello di posiziona il blocco sotto di te. Avanti, uno, due. E numero, terzo blocco. Allora, vediamo se adesso siamo stati in gamba. Avanti, due e tre. Perfetto. A questo punto, nell'inventario, mi aspetto che in posizione numero uno non ci siano più blocchi. E così è. A questo punto, noi possiamo o spostare questi blocchi e metterli nella posizione uno, che è quella, diciamo, di default, da cui attinge la tartaruga, oppure possiamo utilizzare, e io direi di fare in questo modo, dei nuovi comandi, anche perché così li cominciamo a vedere. Allora, cancelliamo tutto. E diciamo alla tartaruga di utilizzare questo blocco. Ok? Cioè, seleziona lo slot. Quale, diciamo, slot vuoi utilizzare? Noi gli diciamo che quello è il quinto slot. Ci viene anche questa grafica per aiutarci nella scelta giusta. Quindi, una volta che abbiamo utilizzato, deciso di attingere dallo slot il numero 5, possiamo fare quello che stavamo facendo prima. Quindi abbiamo sicuramente 5 blocchi. Io direi a questo punto di utilizzare anche il blocco di ripetizione. Cioè, ripetiamo una cosa 5 volte. Vediamo. Allora, quando posizioniamo questi tipi di blocchi, diciamo, ci sono dei blocchi che diventano rossi ed altri che sono i classici gialli. Quegli blocchi tendenzialmente sono dei blocchi richiesti, non necessariamente è così. In questo caso sono tutti richiesti. Allora, cosa ci dice il blocco di ripetizione? Ripeti, clicco. Che cosa? Posso scegliere queste opzioni. In questo caso io scelgo un numero. Cioè, ripeti. 5 volte. Che cosa? Possiamo fare delle comparazioni. In questo caso però noi ci limitiamo a dire che per 5 volte cosa fai? Fai tutto ciò che ricadrà qua dentro. Dobbiamo aggiungere un blocco di end che possiamo anche spostare. Noi però lo mettiamo in questo punto per adesso. E diciamo, per 5 volte ripeti che cosa queste istruzioni. Cioè, vai avanti e posiziona il blocco numero 5. Scusatemi, il blocco sotto le due zampe che viene attinto dallo slot numero 5. Allora, io mi giro un pochetto così vediamo se riusciamo a vedere meglio le operazioni della tartaruga. Mettiamoci più a lato. Ok, mi connetto alla tartaruga e mando in esecuzione il programma. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi ne manca ancora uno. Di conseguenza lo slot 5 sarà terminato. Abbiamo lo slot 7. Io mi aspetto che andiamo a vedere quanti blocchi mancano innanzitutto. E in questo modo noi possiamo riutilizzare la stessa funzione. Scusa, cara. Ok, manca esattamente un blocco. Allora, io direi di comandare, tasto 0, comandare di nuovo la tartaruga. Utilizziamo lo stesso parte di codice. Però invece di dire, guarda, invece di ripeterlo 5 volte, lo ripeti una volta. Ok. Dopodiché, facciamo un altro ciclo di ripetizione. Tutto ciò molto inutile, insomma, però va bene per visionare lo strumento. Cioè, ripeti per 3 volte che cosa? Semplicemente vai avanti. Così la tartaruga riesce ad arrivare almeno a questo blocco. 1, 2, 3. Allora, mandiamo in esecuzione. Posizionato. 1, 2, 3. Perfetto. E così il mio personaggio riesce ad arrivare a questa zona. Numero 3. Allora, io direi di terminare questo video tutorial. Allora, io,